E ora dimmi, come ti accorgi di avere un problema? Come ti accorgi che questa situazione ti crea un disagio? Pensaci bene. Non stai più a posto, senti qualcosa che non va, cioè in una parola non stai bene. Ma come ti accorgi che non stai bene? Cominci ad avere delle sensazioni sgradevoli e poi pensi ad altro, cominci a pensare ad altre situazioni, a desiderare altro o che quello che hai è un problema e che non lo desideri più, giusto? Ma come fai a capirlo? Pensaci attentamente perché la maggior parte delle persone si giustifica con quello che fa, lo capisce perché cerca altre situazioni. Non mi piace più la situazione che ho con il mio partner, la mia partner, trovo un'altra situazione, mi piace. Se mi ha attratto questa persona, ci sono andato a letto, vuol dire che allora non mi piace più quello che ho. Cioè giustificano con quello che hanno fatto, quello che hanno fatto. Che è un po' come dire che io sono andato a comprarmi questo portamine perché sono andato a comprarmi il portamine e non perché ci prendo gli appunti sui miei pazienti. Le persone non distinguono mai tra azione e scopo, ma ci arriviamo dopo. Il fatto è che se io sono stato tanto in una situazione allora mi va bene perché ci sono stato tanto altra giustificazione e cioè il tempo che è trascorso giustifica il motivo per cui le mie azioni presenti, il motivo per cui ci sto dentro. Siamo da tanto tempo insieme e che faccio cambio vita. Se stiamo da tanto tempo insieme vuol dire che mi piace o che mi sta bene, ma non è vero perché non è detto che il tempo trascorso sia tempo di qualità e non è detto che una persona, una relazione non vada bene per un periodo di tempo e poi purtroppo cambino delle condizioni. Non importa essere brutte persone o fare delle cose brutte per chiudere una relazione. Qual è quindi la cosa di cui hai bisogno per comprendere se sei in una situazione di disagio? Bene, te lo dico io. È il tempo. Tu hai bisogno di passare tempo di qualità in quella situazione. Che vuol dire tempo di qualità? Prendiamo una relazione. Non ti va più bene il tuo partner, ok? Hai trovato qualcuno che ti guardava e ti si è mosso qualcosa dentro. Era da tempo non ti succedeva. Mettiamo caso che addirittura ti sei lasciata andare un po', non dico fino in fondo, ma un po' sì. Ecco, hai flertato parecchio. Bene, allora a quel punto dirai, ah ma non lo amo più. Come se una persona non potessi essere innamorata e allo stesso tempo però anche un po' annoiata di un certo tipo di situazione sotto le coperte. Come fai a capire se davvero lo ami? E questa è la domanda. Prendi il lavoro. Non sopporti più il tuo lavoro e cominci a pensare ad altro. Vai sui social, vedi tutte le occasioni che esistono nel mondo, ti stuzziano, cominci ad appassionarti ad altre cose. Ecco, e cominci a non avere più, mettiamo che non ti appassioni ad altre cose, ma non hai più attrazione per quello che fai, lo vuoi mollare, è diventato un problema. Ci trovi solo difetti. Secondo il vecchio adagio per cui se non ritieni di poter più apprendere da una situazione, non importa che quella situazione abbia o non abbia qualcosa da darti. La tua sensazione di non poter più apprendere ti impedirà di apprendere qualcosa di nuovo. Quindi nel momento in cui ci stai male, quella situazione comunque è un problema, anche se non è un problema oggettivo, è un problema per te. Molte persone cominciano a vedere il lato negativo, il lato negativo del lavoro, non mi piace più, non è una cosa bella, cominciano a vedere il lato negativo del partner, perché si è comportato in questo modo, sta facendo male, cominciano a vedere il lato negativo della città dove abitano, perché non sanno trasferirsi senza dire ho abitato in un posto che mi è piaciuto, perché non sanno lasciare una relazione senza dire è stata anche una bella relazione, perché non sanno cambiare lavoro senza dire che questo lavoro mi ha dato tanto. Hanno bisogno di agire di impulso o di odiare o di guardare il lato negativo delle cose per darsi una carica motivazionale. Non hanno la cultura del prendere qualcosa di buono, perché nessuno ce l'ha insegnata, non l'hanno insegnata a te, non l'hanno insegnata a me, io me la sono dovuta imparare da solo, anche tu te la devi imparare da solo. Giustifichiamo le nostre scelte in base al tempo, è tanto tempo che sto in questa situazione e quindi mi piace, oppure mi è capitata questa cosa che va contro questa situazione, ho trovato un amante, sono andato con un'altra donna, sono andato con un altro uomo e allora non amo più la persona con cui sto insieme. Mi interessa un altro lavoro, non mi piace più il mio, mi piace un'altra città, non mi piace più la mia. Cose di questo tipo. Non ci assumiamo così facendo la responsabilità di decidere che una situazione è finita, perché non ci diamo il tempo di deciderlo. Per capire davvero se una situazione è finita hai bisogno del tempo, tempo speso all'interno di quella situazione dove fai di tutto per farla funzionare senza dover cercare alternative. Quindi se tu stai vivendo in una città devi trovare il modo di starci bene, se tu sei in una relazione devi trovare il modo di starci bene, se tu stai facendo un certo lavoro devi trovare il modo di starci bene. Questo è ciò che devi fare e in quel tempo che dedichi a fare questa cosa ti devi dedicare al cento per cento in quello che fai. Questo che non fanno le persone, perché le persone non lo fanno, implica credere che in noi stessi c'è la possibilità di migliorare le cose. Le persone non credono questo di se stesse e quindi vanno a cercare le alternative pensando che il loro benessere, la loro libertà economica, il loro piacere, il loro vivere bene, la loro qualità della vita dipenderà da qualcosa che viene dall'esterno, che incontrano, non da qualcosa che producono dall'interno. In questo modo non solo dipendiamo dall'esterno, ma finiamo anche per cedere alla giustificazione dell'abitudine. Siccome lo sto facendo vuol dire che mi piace, no? Siccome lo stai facendo vuol dire che un tempo hai fatto una scelta e la stai portando avanti. Perché non potresti cambiare quella scelta? Il motivo per cui giustifichiamo le nostre azioni in base all'abitudine è perché noi non ci interroghiamo mai sullo scopo, cioè qual è lo scopo che mi sto dando in questo momento della vita, qual è lo scopo che ho, l'intenzione che ho che sta dietro il mio cambiare il lavoro, il cambiare la relazione, il cambiare i partner, il cambiare città, trasferendomi, cambiare casa. Il motivo per cui noi non ci interroghiamo sullo scopo, sulle intenzioni che ci sono dietro le mie azioni, è molto semplice. Nessuno, nessuno mai ce lo ha insegnato. Per cui agiamo di impulso o per abitudine e l'impulso e l'abitudine diventano la giustificazione delle nostre azioni. Se hai seguito bene il ragionamento sei pronto a questo collegamento che sto per fare con Sigmund Freud. È un piccolissimo libriccino che ti consiglio di leggere e che si chiama Al di là del principio del piacere. Il principio del piacere, sì, lo so, è strano che non stia consigliando il mio libro, vero? Ecco, però sì, stavolta ti consiglio Freud, Al di là del principio del piacere. Anche Freud è uno promettente, fidati, è un buon consiglio. Il principio del piacere qual è? Quello del bambino. Il bambino dice, voglio lecca-lecca, voglio la caramella, voglio il dolce, voglio fare il giro in giostra, ok? Cioè c'è qualcosa mi dà gratificazione e io lo faccio. Il bambino si abitua a quello che fa, alle sue routine e quindi quando fare la routine gli dà piacere, quindi quando tu gli rompi la routine improvvisamente gli stai creando un disagio. Questo è agire secondo il principio del piacere. L'adulto ha bisogno di qualcosa di diverso, il principio di realtà, cioè quali sono le conseguenze delle mie azioni e le mie azioni in quale direzione vanno, cioè qual è lo scopo che mi do, qual è il motivo per cui faccio questa cosa. Stai notando anche tu adesso che la società non ci guida in questa direzione e che non guidandoci in questa direzione ci guida in mille altre che ci portano lontano dalla nostra realizzazione personale. Seguimi se vuoi altri consigli utili.